allora ragazzi dove siamo? siamo appena partiti da pochi 60 chilometri da 70 chilometri già 70 ne abbiamo fatti e allora così arrivare al primo autogreen fare il primo ricornimento gpl e la colazione perfetto vediamo la macchina è bella piena bella piena ma pensavo peggio due tavole da snowboard quattro scarponi ma le tavole si sono piegate sotto il peso della borsa vabbè vabbè siamo con le tavole curvate bella giornata si ci aspetta una settimana da sole crema a volontà adesso il primo stop è per fare colazione prendiamo le le pasta avanzate dall'altro ieri del compleanno auguri grazie grazie anche ieri l'avremmo fatto comunque oggi come per l'esame di ieri si 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 festeggiamo tutti i giorni quando ora fa la laurea? la laurea a luglio ah perfetto poi festeggeremo anche l'olio abbiamo forse un beccia è certo abbiamo questo pensiero vabbè ci vediamo alla sosta ciao per vedere? si si hai da registrare? si si allora dopo fatta una mega colazione con quattro paste e allora ci siamo fatti due paste con la crema e due quelle di simona e in più ne abbiamo prese un'altra due con la crema e uno con la panna cappuccino adesso sopra te si procede alessandro tedeschi fa già così es due es due es due poi perché alessandro poi lo rivede sto video saluto ad alessandro ci vediamo domani domani a sciare sulle piste ah perfetto non la rileva ma poi se vede il video guarda che è scuro no no si vede si vede la televisione poi è divertente abbiamo fatto una bella bracciarola quindi abbiamo fatto 75 chilometri aspetta qua qua beh è obbligato aspetta stavamo sbagliando stiamo sbagliando stai a bari a baristan padonnazza che manco qua figuratemi che andiamo in emilia Fortuna il navigatore GoGo Come si chiama? Si chiama Ego Eccolo qua Ego Ulo, siamo ritrati a culo all'ultimo Mancano 656 km E vai, è vicino alla meta Vabbè, non è Ma con la mia macchina arriveremo sicuro La media è 160 Siamo Va bene Vediamo dopo Adesso mi faccio un'ora di sonno Ok, ciao Ciao Ragazzi Stiamo andando su Ma qui Stiamo all'altro lato della montagna ancora in Zvetlani Stiamo iniziando a preoccuparci Seriamente Manca 50 km Però aspetta Dobbiamo fare il giro della montagna Adesso facciamo vedere tutta la neve che c'è Eh? E' ancora E' coperto dagli altri Come potete vedere C'è più neve a Roma Guardiamo, guardiamo Mancano gli altri Eh? Pieno di neve Pieno di neve Pieno di neve Ghiaccio e neve dappertutto Siamo fiduciosi sulle punte si vede un po' di neve Sì Sì su qualche cima ma proprio poco a poco Qualcosa su sta sciogliendo Qualcosa Un dia di scioglimento Ma dove sta la neve? Ma arriva Roccarasa Dante Vabbè ma che fa? Ci facciamo due saune Sì No scendiamo tanto da qua a Rimini Non è lontano ci facciamo una settimana da mare Abbiamo sbagliato ma se O stagione o luogo A noi Piena di neve Neve zero In Abruzza a sta altezza pieno Pieno Ma Vabbè Vedremo tra un po' Ah con la vallata niente neve Niente Vabbè Ci collegheremo tra poco Allora ragazzi Siamo arrivati Accragiato Accragiato Siamo a sei chilometri all'arrivo Si vede la neve Eh no Non dobbiamo Qualche cavolo C'è 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 No Non siamo proprio pessimisti Al che pista qui Al che pista ecco Là sopra All'altro lato Sì Se si cerca c'è qualcosa Però Vabbè Comunque adesso ci informiamo per i maneggi Per i cavalli insomma Eh Andiamo a sciare sulla neve Sulle piste D'erba Sindetica Sì sì Qua Questa è la valle del sole Eh La temperatura prima abbiamo visto il termometro C'erano 21 gradi Pensate che a Roma ce ne stanno 6-7 C'è incredibile Ecco le piste Però so poche Guarda quanta pista Ma dove Questo che puoi Eh Crociato Crociato C'è due piste Sarà come... Vabbè ma crociato C'è due piste Abbandonate Eh Vabbè va Ah Vedete a due All'esatto Perfetto Qua c'è dai su Se lo so Tiena da neve Tiena da neve Tiena da neve Pura Mare in leva Passaggio Sì 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 Ho visto un Con un cane Chi che salvano la gente al mare Ah Un cane da riporto Un Un cane Da soccorso Sì Ma sono visto un Cosa Un bavone Un bavone Un balcone Eh Ma è che ci stanno pure i pappagalli che esotici Ma sicuro che sei Ma non è che sei a me Ma non è che sei a me Ma è vero Ma non è che siamo in Sicilia Siamo qua No qua la neve Non ci sta più Sempre peggio eh Si sale su Eh Vabbè mi piace capir Come cazzo funziona La fotocamera La fotocamera La fotocamera frontale Eh ma allora Tu non sei un tipo tecnologico Sto caricando su Twitter un commento alla facciamo vedere la camera vediamo la neve che finalmente l'abbiamo avvistata ma lo sta stiamo vedendo l'isola dei famosi buongiorno siamo qui nello stazzo siamo qui pronti prima mattina a prepararci la prima giornata ma sta bello riposato dormito bene meno male però bisogna stare attenti certo vediamo fuori come il tempo la temperatura sembra che è scesa un po' per fortuna la neve però non piglia ma l'unica la tre che prende poco prende e non prende vabbè adesso ci aspetta alle 8 una ricca colazione come questo abbiamo fatto ieri ah questo mannacini vabbè adesso ci aspettano le piste tra poco allora siamo qui no non ti gira non ti gira guardate come mi faccio fare ecco a questo c'è scatto come ti fai fare non mi pare che non ti fai faccio fare la punta vai vai è scattato eh è scattato eh eh però qua a volte ce la fa perchè quello scappa a 50 e qua c'è però a 50 50 no? 50 un gioco lo puoi qua è bello ma questo mi piace questo pane qui ci piace ma il comune il comune perchè qui vogliono mantenere il mio dialetto in inglese in inglese il comune il comune in inglese invece di un municipio ci sta messa un municipio e fa schifo il comune il comune Sì E quelle sono le 9, le 10, le 11, mezzogiorno, l'una Le 2, è giusto, guarda là, perfetto E dove è le 2? Le 2.20 Quella lunga? Sì, perché parte da là, le 9, 10, 11, 12 Eh, sì, ma se io passo qua alle 9 la sera e voglio sapere l'ora, la meridiana Un gestar che va col sole Appunto E là non è una buona Fino alle... le 2, le 3, le 4, fino alle 5, fino alle 5 funziona Dalle 9 alle 5